Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Le riprese della prima stagione sono terminate. Le elezioni di domenica prossima. Se non ci sono cambiamenti dovuti a. L'episodio finale andrà in onda il 9 giugno. E la fine della prima stagione. Celebrare. Si è tenuta una festa da Dio che ha riunito l'intero cast e la troupe. Molto successo, molti. Controverso e, soprattutto, con un pubblico eccellente. Serie, lentamente. È riuscito a conquistare il proprio spazio sia in Turchia che a livello internazionale. Questi ultimi capitoli vendicano la natura. Porterà la verità sul nostro amato Fati. E sugli ultimi episodi finali. Birsen ha condiviso sui social media. Sla stava rilasciando un'intervista in un video. Ha detto che gli spettatori avevano grandi aspettative per questi ultimi episodi. E si è assicurato che avrebbe soddisfatto tutte queste aspettative. Penso che Sla dovrebbe aprire gli occhi su Birsen. Perché un giorno ti ama, il giorno dopo. Lei ti odia. A volte ti porta in cima e poi alla tua reputazione. A terra. Non vediamo l'ora di sapere che tipo di finale sarà. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti.